...telegrammi dai nostri corrispondenti di tutto il mondo. Algeria. Dimostrano residenti francesi contro probabili misure compromesso. In Francia, oggi, tutto probabile. Improbabile solo situazione residente in Algeria alla costa. Quanto costi la costa e te guerra Algeria, te Francia, è st'unica cosa non probabile. Svariati miliardi. Stop! Napoli. Eccovi grattaceno Napoli. 31 piani altezza, 100.000 metri cubatura, 1.350 metri quadrati area. Dovevano essere, perché direzione lavori pubblici bloccato progetto. Forse dovranzi demolire piani. Stop! Inghilterra. Rivola aereo reazione Comet. Chiamasi Comet IV. Precedenti brutti risultati. Ricordate Roma? Ragazzini dicevano scansete passa Comet. Nuovo Comet potenziato. Auguriamoci perciò non doverci più scansare. Stop! Roma. Aperto presidente consiglio onorevole Zoli, convegno ricostruzione. Inaugurata anche mostra ricostruzione. Esauriente rassegna sforzi compiuti Italia, in difficile cammino sua rinascita su rovina e guerra. Stop! South Kensington. Prima macchina mondo pompa gas, cioè turbina. Niente acqua, niente olio, niente benzina, ma parafina. Risolve tutto. Non risolve però problema contravvenzioni e quotidiane pompate, portafoglio e tannessi ad automobilisti da parte vigili urbani. Stop! Roma. Non polli i nostri attori cinema, forbacchioni. Fanno rally, divertonsi e ricevono premi. Ultimo, a Telsa Martinelli, consiste prosciutto. Auguriamoci poter dare presto del salame, noti giovani attori. Stop! Stop!